Domenica 26 giugno a Itri in provincia di Latina si svolge la 25esima edizione dell'Infiorata, una tra le più belle del Lazio, un intero viale adornato con mosaici realizzati totalmente con petali di fiori. L'evento, oltre a impegnare decine di artisti locali e nonne, richiama migliaia di persone provenienti da ogni regione, entusiasti nell'ammirare la celebre e fantasiosa infiorata della cittadina laziale. Domenica 26 giugno a Itri in provincia di Latina, un evento straordinario.